Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo si chiama invece? Robin. Sei sei anni. Sei su davanti. Ecco un altro spiegelo. Tu sei? Simon. Età? Farcolietti. Nove. Nove. Vabbè. Bravissimo. David Livingstone. Sta un po' più giù Michele, se non se lo vedi. Il miglior spiegelo del mondo. Quanti anni? Quattro. Quattro anni. Andate mai avanti tu? Sì, sì. Andate mai in italiano. Questa è la sala a San Michele. Prima e la fine della sala di congresso. Quattro profondità di confusione. Quattro profondità di confusione. che carino che sei, vai, vai, vai avanti, vai cantante, bravo, bravissimo, se vuoi? i ragazzi sopra non riesco a prenderli però, dovete scendere un po' i genocchiavi, ecco, perfetto, così, perfetto, pronti? e semmo, via, uscire, prima Kevin, Kevin vieni, vieni, il più grande, Robi, guarda su, pochili che non resti dentro, perché non resti dentro, perché non resti grandi, così grandi, Alice, brava Speleo Aurora, Aurora, chiaro, chiaro, chiaro ferma io non mi fiderei però, dice l'ora no, 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 anche io non mi fiderei, non glielo darei neanche in mano allora, ci sei? provo a piegare le ginocchia, lì, oh, ma sei capace? no, no, ma riesci a piegare, è solo che lo fanno in un momento sbagliato ma stasera, giuglina stessa però, magari ho caduto il cuore, il coverno, il coverno, ma niente di paura, è un bruga ti tiro sulla prima volta, vedi come si fa? ti tiro su così, come pedalare, adesso è come pedalare, dai una spinta con i piedi, ti tieni qua con le mani e spingi con i piedi oh, sono scappato, sono scappato, qua, metti qua i piedini, piegale i ginocchi, piegale questa l'abbiamo messa un po' troppo alta, sai? scusami, occhio l'avanino ecco qua, allora, adesso metti il piede qua dentro anche macchina fotografica? prima una e poi l'altra dove la guarda? eh, questa è su internet diceva non c'è bene questa telecamera per me la metti qua sulla testa sì, l'ho vista, quella che ha tu papà sì, quella che è la bella, mi vedo scusa, se c'è la platte che è intorno così no, 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 è giusto allora, adesso guarda come si fa le mani non si tengono sulla corda ok? sei? cos'hai? benissimo, vedi che capito come fare la pancia deve essere sempre attaccata alla corda, no? così fai meno fatica Alice, guarda giù eccola ok, dai che sei quasi arrivata non arrivi su, ti perli eh? grazie grazie Grazie.